Buongiorno a tutti, siamo qui con Stefania Pezzopane, Assessora della Cultura del Comune dell'Aquila, con cui intendiamo fare il punto della situazione per quanto riguarda il cartellone estivo di eventi e cultura molto importante qui all'Aquila e direi anche superfluo dire il perché. Stefania Pezzopane, allora abbiamo il cantiere dell'immaginario che sta entrando nel vivo, in prospettiva c'è poi la perdonanza e tanti altri piccoli e grandi eventi collaterali, ricordiamo che l'Aquila ambisce a diventare capitale europea della cultura, la strada è molto lunga da fare, però è un piccolo importante inizio tenendo conto anche del contesto generale di crisi e mancanza di soldi. Sì, la strada verso il riconoscimento a capitale europea della cultura è una strada difficilissima, una sfida difficilissima che abbiamo deciso però di provare a vincere e ci stiamo preparando in tanti modi, intanto coinvolgendo il più possibile il territorio, ma anche avvalendoci di contributi che fuori dalla città possono aiutare l'Aquila a ricostruirsi e a ricostruire se stessa. I cantieri dell'immaginario sono la vera novità dell'estate aquilana perché è la prima edizione e naturalmente la mia ambizione è quella che il Ministero ci finanzia anche le successive edizioni, sta andando molto bene. Cantieri ormai è la parola con cui conviviamo da pochi giorni dopo il 6 aprile e la convivenza è anche una convivenza difficile indubbiamente per i ritardi che ci sono e i cantieri però non sono solo quelli materiali, ci sono i cantieri del talento, della creatività che sono a nostro giudizio, a mio giudizio una dose masticcia di immaginario e di talento è necessario per una ricostruzione che non sia solo materiale. Ricordiamo quindi gli eventi principali almeno? Sì, i cantieri dell'immaginario sono iniziati il 2 di luglio, il percorso del festival finisce finisce a metà di agosto il 14 e ogni giorno praticamente c'è un evento nel centro storico e questa sera per esempio ci sono delle più iniziative, le letture di Gifuni, uno degli attori più promettenti del momento e che verranno fatti al ridotto del teatro e poi un grande concerto con Niki Nicolai e Stefano Di Battista, quindi jazz e non solo. Anche domani sempre nel centro storico c'è lo spettacolo dell'Atam, promosso dall'Atam, domenica alla Basilica di Collemaggio alle 21 e 30 c'è un bellissimo spettacolo con Pino Micol, lunedì c'è Pippo del Bono, martedì anche Pippo del Bono e quindi a seguire. Ogni sera nel centro storico c'è una proposta dei cantieri dell'immaginario, ma non solo i cantieri dell'immaginario perché in questi giorni nel centro storico ci sono anche altre iniziative promosse da istituzioni, associazioni sempre con il sostegno del comune. Voglio ricordare la bellissima iniziativa che abbiamo fatto come gemellaggio tra Emilia, Reggio Emilia e l'Aquila, purtroppo gemellate non solo dall'amore per la cultura ma anche dal recente terremoto dell'Emilia in cui c'erano questi ragazzi provenienti da tutta Italia che hanno vivacizzato il centro storico con claunerie, con declamazioni. Stiamo cercando davvero di fare nel centro storico, mentre va avanti speriamo con maggiore velocità la ricostruzione materiale, una rigenerazione, una ricostruzione morale, etica, culturale che coinvolga anche giovani associazioni. Passiamo alla perdonanza, ci sono già delle importanti anticipazioni, ma soprattutto volevamo sapere qual è lo spirito che bisogna rafforzare della perdonanza che senza problemi anni fa era un po' scesa al diventare quasi una sorta di grande sagra di paese. Sì, noi abbiamo superato molto quell'idea di un festival perdonanza che poi aveva come sfondo la figura di Celestino. Laici o cattolici, cristiani o ortodossi, la figura di Celestino è una figura mondiale, quindi le nostre perdonanze, le perdonanze di questa amministrazione rimettono al centro la figura di Celestino. Quest'anno ci sono diverse cose importanti che non voglio anticipare proprio per rilanciare e proporre questa figura nella sua reale prospettiva storica, ma anche nel suo valore attuale. Accanto a questo ci sono eventi culturali. Non è più la perdonanza spendacciona del passato. Vorrei ricordare che purtroppo ancora oggi, ancora in questi giorni, siamo costretti a portare in Consiglio Comunale debiti fuori bilancio di precedenti perdonanze. Questa perdonanza è una perdonanza più rigorosa, più rispettosa della crisi economica e finanziaria che vive il paese e che fa di più all'appello alle forze sociali e alle forze culturali di mettersi a disposizione. Noi abbiamo avuto anche qualche piccolo turbamento, ma il programma lo presenteremo a giorni, è un programma ricchissimo in cui ci sono delle proposte culturali eccellenti di persone che si mettono a disposizione. Ecco l'ultimo, voglio citarlo, è Maurizio Tripitelli, famosissimo musicista Aquilano, che è più famoso fuori dall'Aquila, che mi ha mandato un messaggino giorni fa e mi ha detto io voglio regalare il mio concerto per la perdonanza e poi ci sarà ormai, diciamo che non è più un segreto, grande concerto di Riccardo Cocciante, anche lui generosamente ce lo regala. Riccardo Cocciante è il nome forte, non solo lui chiaramente a livello di notorietà. Ci saranno tanti altri nomi, però ecco qual è il messaggio che dà la presenza di Riccardo Cocciante? È il messaggio di una figura della musica e dell'arte italiana e non solo che nonostante ormai l'Aquila sia stata dimenticata e non vengono più a fare passerelle e quant'altro abbiamo visto in questi anni, ecco ci sono delle persone di grande volontà e di grande serietà che continuano a pensare che l'Aquila vada ricostruita e dicono voglio venire all'Aquila e fare una cosa per voi. Per quanto riguarda la cultura e parliamo di luoghi della cultura, ci sono state polemiche per quanto riguarda l'auditorium di Renzo Piano, adesso altre polemiche per quanto riguarda l'urban center che dovrebbe sorgere anche questo nel castello e poi più in generale qualche perplessità comunque da persone, operatori culturali, insomma persone rispettabili e competenti in materia che dicono che forse si sta esagerando con eccessiva polluzione di strutture teatrali, auditorium, centri polivalenti, provvisori, tenendo conto che poi andranno ricostruiti anche quelli che sono in centro e sono bellissimi. Le critiche, le osservazioni, gli stimoli sono sempre molto utili perché ovviamente confrontandoci magari si trovano le ricette migliori e non c'è un modello di ricostruzione, non c'è un modello di città transitoria, è impossibile pensare che una città transitoria possa avere un ordine di chissà quale fattura, l'unico ordine che possiamo dare è quello di dare le occasioni alla gente di stare insieme, le occasioni alle istituzioni culturali di produrre cultura e spettacolo. Molti dei criticoni dimenticano che l'Aquila nel centro storico, senza parlare della periferia, aveva ben 14 luoghi di spettacolo, teatro comunale, teatro ridotto, teatro Sant'Agostino, teatro San Filippo, l'Eden, l'auditorium dei minimi, l'auditorium del castello, insomma l'elenco, il cinema massimo, l'elenco arriva a 14 luoghi di spettacolo e dove a volte quasi contemporaneamente si realizzavano eventi. Ora dire che il solo ridotto con l'aggiunta dell'auditorium di Renzo Piano siano troppe cose è un dire spropositato, cioè che ha dimenticato cosa eravamo. Ora cosa eravamo non si può riproporre, lo dobbiamo riproporre per il futuro, cosa saremo? Saremo una città che riposiziona i suoi luoghi principali di spettacolo, perché ringraziando il cielo il teatro comunale è ripartito, il ridotto è funzionante ormai già dal 2009 e partono i lavori per il teatro San Filippo, e partono i lavori per il cinema massimo, cioè le strutture del comune ripartono tutte, mentre c'è una calma piatta per le strutture altrui. Cosa stiamo cercando di fare? Per esempio il teatro Sant'Agostino, che non è del comune, che è della Curia, non sappiamo se hanno i soldi, purtroppo sappiamo anzi che non ce li hanno. La sala della Carispac, dove si facevano tante cose, la sala Eden, che è della provincia, la biblioteca provinciale, cioè i luoghi dove si facevano eventi culturali e manifestazioni. Noi ci siamo dati l'obiettivo di ripartire almeno con quelli comunali. Il Palazzetto dei Nobili dovrebbe essere pronto per fine anno e sarà messa a disposizione delle associazioni e sarà anche la sede della candidatura per l'Aquila Capitale della Cultura. Quindi tutti gli spazi culturali del comune sono tutti stati rimessi in cantiere. Non ci sarà un esubero, questa è la risposta. La polemica sull'auditorium di Renzo Piano ormai è molto scemata. Ci porterebbe troppo lontano. L'ultima domanda invece adesso è questo. Vi ho detto, cartello culturale e luoghi della cultura, terzo elemento fondamentale, i soldi per la cultura. Quest'anno l'abbiamo sfangata, ma la prospettiva è nera per quanto riguarda i tagli, i finanziamenti. Chi fa cultura rimane senza risorse. L'abbiamo sfangata perché il comune dell'Aquila, lo voglio sottolineare, è stato molto coraggioso e molto ambizioso. Abbiamo predisposto un progetto, eravamo in campagna elettorale, quindi lo abbiamo fatto sotto tono e in silenzio e lo abbiamo annunciato dopo la campagna elettorale che c'era stato finanziato, proprio per mantenerci dentro dei ranghi di correttezza politica istituzionale. Nessun'altra istituzione locale ha avuto questa ambizione. Sapevamo di non avere soldi e li sono andati a cercare al ministero. Li ho trovati, però sono fondi per il progetto i cantieri dell'immaginario e fondi per le associazioni che hanno il fondo unico per lo spettacolo. Per le altre, tranne il comune dell'Aquila, le altre istituzioni stanno tagliando in maniera spropositata. Giorni fa è uscito l'ennesimo documento, l'ennesimo appello delle istituzioni culturali alla regione, che purtroppo fa orecchie da mercante. Sembra che la cultura sia un lusso, io ci vedo anche un accanimento speciale per l'Aquila, perché è evidente che tagliare alla cultura significa tagliare prevalentemente sull'Aquila, perché è sull'Aquila che c'è il maggior numero di concentrazioni e di istituzioni culturali di un certo prestigio e di un certo valore. E' un accanimento da parte della regione. E il motivo quale sarebbe? Innanzitutto è uno scadimento culturale, io ritengo questa regione non all'altezza delle sfide dei tempi. In tempi di transizione, in tempi di crisi non si abbandona la cultura, in tempi di crisi ci si investe in cultura perché la cultura è uno degli elementi che fa scattare altri meccanismi. Quindi c'è proprio una prospettiva politica e un buco culturale in questi amministratori. E poi c'è un accanimento perché è inutile non considerare che contro le istituzioni culturali aquilani c'è sempre stata una crimonia. Io ho fatto tempi, diciamo qualche anno fa, l'assessore regionale alla cultura, feci le leggi per salvare tutta una serie di istituzioni, anche per le piccole istituzioni, e ogni volta quando facevo gli incontri regionali c'era sempre questa litania, l'Aquila c'è troppo, l'Aquila c'è troppo, litania che dura adesso anche dopo il terremoto. Non si considera che la città dell'Aquila ha questo patrimonio perché ci ha investito e che questo patrimonio è essenziale per la rinascita culturale. Io mi batterò a fianco delle istituzioni perché questi tagli vengano in qualche modo corretti. Ci fermiamo qui, salutiamo l'assessore Stefania Pezzofani e la ringraziamo e ci lasciamo se non con un appello a tutti gli aquilani e non di partecipare attivamente a questo ricco cartellone estivo culturale dell'Aquila.